Salve a tutti amici e bentornati qui sul mio canale ed oggi voglio darvi la mia opinione su un mondo che è quello della differenza tra il micro 4 terzi e gli altri sensori una cosa che io sento troppo spesso e non solo su web ma anche da colleghi è che il micro 4 terzi, il sistema micro 4 terzi non è un sistema professionale e questa cosa un po' mi fa nervosire ora non perché io sia un portabandiera del sistema micro 4 terzi perché comunque utilizzo tanti altri sistemi e apprezzo tutti i sistemi ma apprezzo tantissimo anche il sistema micro 4 terzi a prescindere se lo utilizzo o meno io sono un cultore di quel sistema perché ha una piena logica di esistere e con questo breve video voglio raccontarvi qual è il mio punto di vista su questo argomento nello specifico quando si parla tutte le volte che ho sentito parlare del micro 4 terzi e del non essere un sistema professionale è perché il sensore è troppo piccolo ora la tecnologia va avanti e ce l'ha dimostrato l'Inpus ce l'ha dimostrato Panasonic che possono nascere dei sistemi con questo sensore molto avanzati vedi GH6, vedi OM1 si tende tranquillamente ad equiparare le performance che ha una full frame con dei cambiamenti fisici dovuti al fatto che il sensore è più piccolo uno dei due grandi limiti del sistema micro 4 terzi sono, essendo un sensore piccolo la gestione delle basse luci perché giustamente avendo tanti piccoli pixel un accanto all'altro la dispersione elettrica tra i vari pixel porta quando aumentiamo gli ISO ad esserci più rumore ma grazie alle nuove tecnologie abbiamo visto dei video, non ho avuto ancora modo di provare ma con un GH6 abbiamo la possibilità di arrivare a 12.000 ISO senza accusare il colpo tranquillamente possiamo arrivarci grazie non solo alla tecnologia proprio fisica di progettazione del sensore ma anche grazie a tutto l'enorme lavoro di intelligenza artificiale che oggi viene fatto sulle immagini dei processori delle macchine fotografiche poi l'altro grande limite se così vogliamo definirlo è quello della profondità di campo profondità di campo che è un fattore letteralmente fisico di distanza tra le lenti e il sensore il sensore è più grande quindi significa che nelle macchine full frame con le macchine di sensore full frame avremo a parità di diaframma molto più sfocato nei nostri sfondi piuttosto che con le micro 4 terzi quindi uno stacco maggiore ma non è detto che questa cosa sia sempre un bene immaginate le tv o immaginate chi fa giornalismo o chi fa documentaristica chi fa documentaristica chi fa il telegiornale ha bisogno che quando inquadra qualcosa e racconta un'immagine ha bisogno che quell'immagine si veda e questo è un punto da non tenere da tenere in considerazione come anche tutti quelli che fanno televisione la televisione a differenza del cinema il cinema utilizza tantissimo i piani prospettici utilizza tantissimo ecco lo sfocato dietro mi isola da quello che c'è davanti isola me e quindi è tutto un po' più raccolto ma se io volessi raccontare il fatto che sono in un contesto casalingo sono in una casa io vorrei vedere la casa fare un'inquadratura per mettere bene in evidenza tutto quello che c'è attorno e vorrei che si vedesse ed è esattamente lì il punto la differenza immaginate di andare a fare un viaggio in savana e avere oltre a altre cose che adesso ci arriveremo i grandi pesi ad avere stacco tra piani prospettici se io voglio fare un bel piano lungo e avere le focale più schiacciate avere un po' tutto a fuoco beh con il micro 4 terzi questa cosa è più fattibile rispetto ad una full frame certo vi ripeto il problema dall'altro lato è che riesce ad immagazzinare meno luce e il sensore micro 4 terzi essendo più piccolino ma dall'altro lato la tecnologia ci aiuta grazie all'aumento della gestione degli alti ISO l'intelligenza artificiale insomma piano piano si vanno a bilanciare le cose ma non per questo il sistema micro 4 terzi a mio avviso è un sistema meno professionale uno dei grandi vantaggi a differenza dei corpi full frame ma anche un po' a PSC è il fatto che con i corpi MFT micro 4 terzi abbiamo la possibilità di avere delle lenti con enormi prestazioni ma da peso ingombro ridotto questa è una delle chiavi faccio sempre lo stesso esempio immaginate di andare in una savana e dover portare con voi uno zaino con 10 ottiche perché avete bisogno di più lunghezze focali è una cosa avere tutte lenti professionali per full frame ad esempio f2.8 parliamo di lenti dal peso dei 700-800 grammi ad avere l'equivalente per micro 4 terzi che pesa 2-300 grammi con la stessa qualità costruttiva con la stessa qualità di lente e questa cosa è da tenere in considerazione in molti potranno obiettare il fatto che i corpi micro 4 terzi professionali VDGH6 VDOM1 non sono meno ingombranti o meno pesanti di corpi full frame questo è vero ma c'è anche da dire che dall'altro lato tutte le lenti sono meno ingombranti e meno pesanti certo se poi si va sulle lunghezze molto estreme 50-140 100-400 che vanno moltiplicati per due quindi significa un 200x800 millimetri beh c'è la differenza perché una lente 100-400 che sarebbe un 200-800 su micro 4 terzi sarà così parliamo di una lente da 800 grammi mentre per full frame sarebbe una lente da 2 kg tranquillamente molto più ingombrante quindi le grandi differenze stanno in queste cose ed è sempre per lo stesso motivo che io dico il sistema migliore non è decretato dalla caratteristica dell'immagine dalla caratteristica dello sfocato se acquisisce più luce no ma è decretato dagli utilizzatori se il professionista nel suo ambito di lavoro trova maneggevolezza nel sistema micro 4 terzi e riesce a e sa sfruttare i limiti del micro 4 terzi a suo favore beh vuol dire che quel sistema diventa un sistema professionale perché utilizzato da professionisti che conoscono i limiti e li utilizzano a loro vantaggio come dall'altro lato per i sistemi di full frame beh lo sfocato per esempio è un limite e ci sono delle circostanze dove lo sfocato è un limite e quindi un buon professionista sa utilizzare quel limite e sa come ovviarlo ed è quindi per questo che ho poi tendo a chiudere e dico chi pensa ancora che ci sia una guerra tra il sistema full frame il sistema psc il sistema micro 4 terzi non ha ancora capito che sono solo degli strumenti per lavorare degli strumenti professionali con caratteristiche diverse che servono professionisti con esigenze diverse questo video non voleva essere uno sfogo ma voleva essere un chiarimento sul mio punto di vista e sulla questa pseudo guerra che c'è tra i sistemi micro 4 terzi e il sistema full frame o apsc perché sento sempre più spesso dire che una GH6 non potrà mai equiparare una 7S3 o una Canon R5 perché no? certo sono full frame la 7S3 ha delle caratteristiche specifiche che la rendono in quel punto salto del mercato Canon con R5 ha il suo mercato con quelle sue caratteristiche GH6 ha un altro mercato con altre caratteristiche punto e capire quali sono i limiti di un sistema e sfruttarli a proprio vantaggio se si riesce a far questo allora si è perfettamente capito qual è la differenza tra tutti i sistemi e aggiungo no il micro 4 terzi non vuole essere un sistema più economico del full frame è semplicemente un sistema differente che nel confezionare i prodotti i produttori hanno meno costi e quindi alcune cose costano meno ma andiamo a vedere sistemi come i corpi fotografici sostanzialmente non costano meno di quelli per full frame non costano meno delle macchine full frame semplicemente hanno costi differenti insomma io spero di aver spiegato bene il mio concetto nella differenza tra il mondo del micro 4 terzi e il mondo del full frame e anche dell'apsc perché il ragionamento vale anche per tutti i sensori per tutta la tipologia di sensore adesso ci si appresta al medio formato che sta diventando molto più utilizzato da più professionisti e il concetto sarà lo stesso si sfrutta quel sistema perché si vuole ottenere un determinato risultato insomma siamo giunti alla fine di questo video io vi ringrazio per averlo visto se avete dei dubbi dei commenti o non siete d'accordo con me potete tranquillamente scriverlo qui sotto nei commenti se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace non dimenticatevi di iscrivervi al canale e inoltre vi ricordo di venirmi a seguire anche su Instagram insomma io vi ringrazio per la visione noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video vi ringrazio vi ringrazio vi ringrazio di indip Grazie.